allora salve a tutti buongiorno e benvenuti al caffè di sipario mi sapreste dire che cos'è il caffè di sipario esatto è un programma dove si intervista ospiti ma mentre l'anno scorso ne facevamo così tanti quest'anno ce ne sono tutti nuovi ma voi già mi conoscete lo sapete già come mi chiamo esatto sono gabriele costanza piacere piacere io sono stefania piccini e oggi con noi qui da questa bellissima terrazza del piazzale michelangelo abbiamo abbiamo portato un ospite molto interessante di banca di banca ma voi lo sapete chi è il dottor è il dottor paolo piazzini buongiorno e grazie grazie dell'invito con piacere ho accettato e sono qua tra voi speriamo di essere utile interessante speriamo senz'altro diciamo la nostra regola gabriele sì sì questa va detta sempre diciamola subito ci diamo tutti del tu allora gabriele paolo e stefania perfetto allora ed ora vogliamo cominciare sei pronto prontissimo domande facili però eh ce ne ho facili da farti allora perché la chiamate chianti banca allora già bella domanda chianti banca chianti banca nasce da un'aggregazione di due banche erano due banchi che già da tanti anni esistevano la banca del chianti fiorentino era san casciano sì e la banca di monterigioni era a monterigioni a siena due anni e mezzo fa hanno deciso di mettersi insieme di fondersi e farne un'unica banca è una cosa è stata fatta un'operazione è stata fatta molto importante molto lungimirante anche per chi l'ha pensata in quanto solitamente la storia insegna che le banche che si mettono insieme è perché una c'ha molti problemi e quindi chiede un aiuto in questo caso invece erano due banche sane e solide che hanno deciso di far comune di tante cose e si sono messe insieme creando un'unica banca infatti si chiama fusione per unione tra due banche e quando poi c'è stato il tema di scegliere il nome tante ipotesi sono state messe sul campo ma alla fine è stata scelta chianti banca per vari motivi prima cosa perché il chianti è quel bellissimo territorio che unisce queste due banche unisce siena e firenze e quindi era poteva dare un senso di appartenenza a entrambe le comunità delle due banche un altro aspetto anche commerciale era che comunque chianti è un nome estremamente conosciuto anche all'estero anzi sembra che tra le anzi non sembra proprio una cosa reale la nostra vera e tra le prime tre parole italiane digitate su google c'è proprio chianti quindi è un valore aggiunto che anche per i nostri clienti i nostri soci che possono esportare per dire i loro prodotti sapere che chianti è la loro banca di riferimento gli dà una visibilità importante anche all'estero da lì nasce quindi chianti banca che unisce un pochino siena e firenze nella sua nella sua storia diciamo che siena e firenze negli anni sono state due città anche antagoniste nella storia con questa banca hanno deciso di mettere insieme le forze per affrontare in un momento difficile il mercato esatto perché è molto importante l'unione fa la forza l'unione fa la forza e tra l'altro voi siete banca ma credito cooperativo soci perciò quanti siete e spiegaci un attimo allora chianti banca è un credito cooperativo anche se oggi ha una dimensione importante rispetto a quella che forse come immagine comune può essere il credito cooperativo oggi chianti banca ha 38 filiali 300 dipendenti rimane però un credito cooperativo vuol dire che la proprietà della banca è dei soci dei soci come per dirne può sapere un socio che è che è un socio i ragazzi del sipario che sono diventati i soci con la loro cooperativa della banca e anche voi se anche proprietari di un pezzettino anche si vario tv è diventato socio per un pezzettino della banca questo questa idea diciamo questo fatto che di per sé può sembrare una cosa quasi banale ti assicuro che per chi come me ha vissuto anche in altre esperienze bancarie lavorare una banca è però è di proprietà di un soggetto terzo che con tutto il rispetto può essere un'altra banca può essere il mercato può essere tante persone possono essere portare la banca il fatto che la proprietà sia proprio dei soci cioè degli stessi clienti che alla fine usufruiscono del servizio della banca ti assicuro che dà un senso di legame tra me e te che sei cliente socio che agevola in tutto e fa vivere in modo diverso il rapporto banca cliente oggi chianti banca ha quasi 10.000 soci che vanno però da siena firenze a campi infatti anche per chiudere un po la descrizione della banca di come opera che anche banca non ho detto nasce dalla fusione di queste due banche poi un annetto fa siamo andati anche sui giornali in quanto c'era un'altra banca sempre un credito cooperativo che nel nostro territorio aveva qualche problemino che si chiamava credito cooperativo fiorentino quella di campi visenzio e quindi chianti banche aveva una dimensione tale da poter sopportare questa banca in difficoltà ha acquistato gli sportelli di questa banca quindi è passata da quelle che erano circa 31 sportelli agli attuali 38 quindi oggi parte da rezzo c'è un avamposto a buscini in provincia d'arezzo siena 55 filiali e la sede legale va giù per tutto il chianti andando su tutti i comuni del chianti direzione generale a san casciano dove ha dove c'è anche il mio ufficio va giù per firenze dove firenze ha otto filiali la nona in apertura poi sulla piana scandiccio empoli sesto cerentino campi calenzano fino all'ultima prato quindi questa è la dimensione che oggi chianti banca con i suoi 60 mila clienti e 10 mila soci oggi è il territorio che rappresenta sono stato chiaro chiarissimo se stavo chiaro precisissimo allora posso chiedere qualcos'altro porca miseria sono qua un'altra più facile vai tu sei direttore commerciale di chianti banca sì che cosa fa un direttore commerciale di una banca che cosa fa a volte i miei figli mi chiedono ma babbo ma te conti soldi lavori in banca cosa fai no e conti soldi stai alla cassa allora il direttore commerciale per dire cosa faccio durante il giorno io parlo parlo tanto parlo con i colleghi e parlo con i clienti a livello di struttura vero e proprio come ruolo io mi occupo dello sviluppo della banca mi occupo di dettare alcune strategie per riuscire a aumentare questi clienti e comunque a farli essere soddisfatti della banca cerco anche di mettere insieme tutte quelle che sono le esigenze e comunque le strategie che un territorio così vasto ha perché la banca deve avere comunque un'unità di intenti e comunque degli obiettivi comuni e cerco nel mio ruolo di facendo leva su quelli che sono appunto i titolari delle varie filiali gli altri organi intermedi ci sono alcuni capi aria che sono responsabili ognuno di un'area l'area di siena l'area di firenze l'area di prato e cerco di essere un appoggio per loro per poter affrontare via via con una visione comune quelli che sono i problemi che loro durante durante il giorno durante il lavoro affrontano con i loro clienti o con i loro colleghi faccio delle riunioni spesso nel quale sento è importante vero voi le fate quale riunioni sì ne facciamo bene bene anche riunioni di condominio anche di condominio guarda a volte anche nelle nostre riunioni sembrano quasi riunioni di condominio perché giustamente ogni titolare alle proprie esigenze racconta quelle che sono i problemi di quel territorio e il mio ruolo è che sono un po il tramite con la direzione generale cerco un attimino di rappresentarle e comunque di trasmettere poi ai colleghi e poi stanno alle filiali no nella rete quelle che sono le esigenze e le indicazioni che poi la direzione generale e il consiglio di amministrazione mette in atto ecco allora riguarda le esigenze no sì le aziende oggi hanno bisogno di mercato di sviluppo allora verso l'estero chi anti banca che cosa ha pensato cosa per allora avete fatto viaggi perfetto stefania hai toccato un punto importante brava stefania in quanto allora chi anti banca è un credito operativo a volte forse sbagliando una è rimasto la vecchia concezione che il credito operativo sono piccole banche quindi non sono attrezzate per lavorare con l'est sbagliatissimo sfatiamo ora di fronte a centinaia di spettatori che ci seguono questo falso mito in quanto chi anti banca ha tutte le carte in regola per poter affrontare il mercato estero e anzi sta lavorando alla cremente proprio per incentivare i propri clienti a lavorare con l'estero perché la crisi che c'è forte in italia ci ci rappresenta una situazione il quale chi ha avuto il coraggio la forza e l'intelligenza di proporre i propri prodotti all'estero trova molti meno problemi di chi invece continua a lavorare in italia dove questa crisi un po di burocrazia un po di crisi del sistema bancario fa sì che è sempre più difficile vendere e sempre più difficile lavorare e sviluppare tra l'altro per farti per farti un esempio il nostro direttore generale è andato in cina è andato a Hong Kong e ha instaurato dei rapporti commerciali con degli grossi imprenditori cinesi in modo che un nostro piccolo cliente che forse da solo non ha nella forza nelle competenze nel tempo per poter strutturare una sua offerta all'estero con chi anti banca invece trova un partner che li può dare garanzia di poter andare all'estero a vendere i propri prodotti perché te non lo sai ma il mercato cinese non voglio ribadire sempre le stesse cose cioè rimarcare soltanto la cina ma tutti i mercati esteri in particolare quello cinese ha veramente tantissima richiesta di prodotti italiani e toscani e lo sai che tanti imprenditori cinesi si arricchiscono acquistando i nostri prodotti e poi rivendendoli nel loro mercato cinese ma scusa sono io che li faccio potrò in qualche modo io riuscire a andare direttamente in cina a proporli immediatamente al loro mercato e così si sta cercando di fare noi per creare un tessuto e permette a tutti di poter accedere a quei nuovi mercati certo ma quante ore di volo ci vogliono per andare in cina allora le ore di volo sono tanto i soldi cioè i bonifici che arrivano e partano non vanno in aereo è quindi fanno molto più veloce arrivare e avvenire quindi le ore di volo per andare in cina ma non lo so 12 13 non lo so è stancante ma infatti noi invece di mandare il cliente o comunque il piccolo cliente a una piccola impresa a firenze o a siena o a prato ci andiamo noi per lui in modo che poi troviamo il contatto laggiù da poter poi collocare ma è piuttosto lontana ora stai a sentire questa che ti fa per noi giovani la vostra per noi giovani la vostra banca ha mai pensato a qualcosa di importante per lo studio e per il lavoro allora bella domanda anche questa bella domanda anche questa noi stiamo cercando di costruire per i giovani un pacchetto o meglio lo stiamo già facendo secondo solo che c'è francesca buongiorno francesca grazie un pacchetto come questo bene un pacchetto come questo in quanto abbiamo fatto delle varie iniziative per esempio stiamo creando dei prestiti d'onore si chiamano vale a dire dei prestiti che noi facciamo a studenti universitari o quindi a persone che si stanno un attimino formando la propria carriera professionale e quindi si trovano in un momento nel quale non hanno alle spalle se non una famiglia un sistema che che li può permettere di accedere al credito in modo facile noi invece stiamo scommettendo sul futuro di queste persone certi un domani si ricorderanno della banca e l'aiutate nel momento in cui iniziavano la loro formazione dandoli dei prestiti per sostenere il momento dello studio o il momento dell'inserimento nell'attività professionale che come garanzia in questo caso richiediamo l'onore cioè non è una garanzia vera e propria con una firma da parte di un genitore quindi non sono avallati dai genitori non sono avallati dai genitori chiaramente perché di solito uno va in banca se c'hai soldi te li danno se non ce li hai non te li dà la banca un'altra iniziativa che abbiamo fatto è per esempio per i giovani commercialisti è quello di dargli un preaffidamento di 10.000 euro vale a dire un giovane commercialista appena è scritto all'ordine ancora non inizia a lavorare quindi è un po' alle prime armi che anti banca cioè il consiglio di amministrazione ha deciso di dargli un preaffidamento di 10.000 euro cioè chi arriva in banca e dice sono un giovane commercialista ho appena aperto uno studio mi sono appena iscritto all'ordine che anti banca lo aiuta con questo affidamento è un altro modo per essere vicini a chi sta iniziando allora ti aiutano sicuramente sicuramente è arrivato il caffè sì che vuol dire? questo cosa vuol dire? ormai lo sappiamo sì ma diciamo io non lo so io non lo so noi lo sappiamo sai cosa significa Paolo? cosa significa? significa che siamo in chiusura e ora di chiudere però abbiamo l'ultima domanda per un altro minutino faccio io? sì falla a te allora abbiamo parlato dei giovani bene e io parlo di famiglia bene per le famiglie per le giovani famiglie ragazzi che si vogliono sposare ma per le famiglie anche già consolidate avete progetti avete aiuti come le potete aiutare perché sappiamo che il momento non è facile soldi sono pochi allora la crisi morde sì la crisi in questo momento morde e ti assicuro Stefania che anche per chi fa il lavoro come il mio spesso si trova di fronte a situazioni che in qualche modo lasciano segno famiglie che perdono il lavoro hanno mutui da pagare eccetera eccetera in questo posso dirlo e ribadirlo proprio per come nasce l'antibanca per il proprio DNA non l'ho detto le nostre sono banche che nascano cent'anni fa da sacerdoti da sacerdoti che in qualche modo per combattere l'usura all'inizio del secolo scorso si mettevano insieme e raccoglievano i depositi delle famiglie un pochino più abbienti per finanziare i piccoli diciamo i piccoli artigiani del paese quindi nascono sotto i campanili per rimanere su questo DNA noi banca ci siamo mosse e ci siamo sempre mosse per venire incontro a quelle che possono essere esigenze di famiglie in difficoltà abbiamo attivato tutte le leve che possono essere le sospensioni dei mutui o comunque il venire incontro a persone che in un certo momento della vita si trovano a perdere il lavoro con impegni già presi abbiamo in essere le convenzioni con tutti i fondi anti-usura che noi sosteniamo ecco diciamolo prima di arrivare a quello ci sono degli organismi diciamo proprio nel nostro territorio che servono per prevenire l'usura e quindi invece di rivolgersi a persone che non meritano nemmeno di essere nominate ci sono delle strutture che servono per dei centri di ascolto per sentire le famiglie e le esigenze che possono avere e attraverso garanzie che questi centri possono prestare la banca può accompagnarli per quanto riguarda invece le nuove coppie parliamo di cose positive futuro, futuro, un po' di speranza per il nostro futuro a differenza di come un pochino oggi nel sistema bancario c'è un po' restivo a concedere mutui che anti-banca vuole dare mutui alle giovani coppie che comunque decidono di mettere su famiglia quindi qualora anche voi con le vostre conoscenze sappiate ho dei miei amici che si vogliono sposare interpellate che anti-banca perché comunque in questo noi ci siamo e siamo presenti saremo tutti presenti ve lo prometti, lo fai? bene, te lo prometto Paolo promesso, bene, bene non importa come ma lo farò bene Gabriele, sei un socio della banca anche te quindi è tuo dovere certo però non lo farò per nessun altro lo farò solo per me stesso e per chi anti-banca e per chi anti-banca per noi va bene allora ringraziamo che facciamo? salutiamo tutti quelli che ci seguono da casa anche oggi ci hanno seguito ringraziamo tutti quanti ringraziamo il nostro ospite bancario Paolo Piazzini io ringrazio voi è stato un onore un piacere essere qua grazie mille e arrivederci alla prossima puntata e arrivederci alla prossima puntata a presto ciao 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 leviamoci il caffè ma ricordatevi che siamo tutti soci bene bene grazie a tutti